Non preoccupatevi dei cadaveri! Occhi aperti! Ricarico! Vi faremo brandelli! Accelerate il ritmo! Sto ricaricando! Colpito! Ricarico! Muoversi! Si prenderemo! Lascia di una lotta! Devo ricaricare! I nostri esploratori sono in volo! I colpi stanno finendo! Passate in fretta! Merda! Non riesco a muovermi! Sarai benone! Attacco! Sono pronto! Sarò quasi a secco! Non riesco a muovermi! 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 Assi si tolaremo! Non riesco a muovermi! L'effetto di una mossa! Sto ricaricando! Non c'è tempo da perdere! La bomba alleata sta per colpire! Ora è il vostro turno! Sono a corto dei colpi! Non c'è tempo da perdere! Merda, non c'è tempo da perdere! Morirò distanzuato! Servi al nostro... Muovete il culo! Andiamo! Ricarico! I colpi stanno finendo! I nostri esploratori sono in volo! I nostri esploratori sono in volo! ... ... ... Ricarico! Oh no! Non è sparato, è presto! Massacriamoli! Devo ricaricare! Ricarico! Ricarico! Esploratori operativi è di vedetta! Esploratori pronti ad andare! Esploratori operativi! Ora ricarico! Esploratori operativi! Aspetta più stretta! Aspetta più stretta! Quasi a secco! Ricarico! Esploratori operativi! 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 Oh! 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 Fate più in pressa! Oh! Non ci scapperanno! Oh! 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 ah ma che cazzo in piedi cosa volete farmi niente solo un abbraccio fraterno d'accordo visto forse vuoi unirti a noi sì perché no 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 no